Purtroppo non ce l'ha fatta Ileana Todesco. La 41enne di Cadrezzate si è spenta la scorsa notte all'ospedale Le Molinette di Torino, dove era giunta in condizioni drammatiche nel tardo pomeriggio di ieri dopo una caduta alle marmitte dei giganti a premia. La donna era scivolata, aveva battuto la testa ed era rimasta sott'acqua per alcuni lunghi istanti. Sul posto erano giunti immediatamente i soccorsi, i SAGF, Soccorso Alpino Civile, i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 che l'hanno ritrasportata alle Molinette, i medici torinesi, hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.